Ben tornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Un imponente anticiclone con i suoi valori massimi è attualmente stazionario tra l'Italia e l'Europa dell'Est. La sua protezione perdurerà per diversi giorni favorendo in maniera costante sul nostro stivale cieli sereni ma nebbie gelate diffuse di sera e al primo mattino, in particolar modo sulla pianura padana e lungo le valli appenniniche e alpine. Piogge potranno persistere su Calabria e Sicilia a causa di una debole perturbazione e lento spostamento verso le coste tunisine. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo per il giorno dell'Immacolata, giovedì 8 dicembre. L'anticiclone favorirà cieli soleggiati o poco nuvolosi su entrambe le regioni durante tutta la giornata. Qualche annuvolamento in più potrà interessare il Salento durante il pomeriggio sera, possibili banchi di nebbia durante la tarda sera nelle valli e sulle pianure interne. Per quanto riguarda le temperature massime in lieve rialzo, stabili invece i valori minimi. Ventilazione è debole dai quadranti settentrionali più intensi sul sud della Puglia, con mari che risulteranno poco mossi su tutti i settori. Ma eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà per questa foto mozzafiato, ripresa sulle rive di Riva Bella Gallipoli. Ritrae una nave durante il suo lento viaggio verso il mare aperto, accompagnata dai caldi colori del sole che tramonta. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappola, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.